Qui a Taranto la situazione effettivamente è tragica. Una struttura che dovrebbe ospitare non più di 300 detenuti ce ne sono quasi 800, per cui vi è una gestione abbastanza critica, una carenza di educatori, per cui il trattamento viene annullato in questo istituto. Non è possibile gestire la sicurezza, non è possibile garantire quei diritti minimi. Gli agenti di polizia penitenziaria si sono incatenati dinanzi ai cancelli della casa circondariale di Taranto questa mattina, in segno di protesta contro una situazione che definiscono ormai ingestibile. Il suicidio di un detenuto avvenuto pochi giorni fa, un agente aggredito che rischia di perdere un occhio, sono solo gli ultimi fra i tanti eventi drammatici che quasi quotidianamente si verificano all'interno della struttura. Antonio ha deciso di raccontarcelo. Lei che vive personalmente questo disagio quotidianamente all'interno dei reparti, della struttura con i suoi colleghi, qual è il disagio maggiore, qual è l'intervento più immediato di cui ha bisogno questa struttura in particolare, Taranto? Sono diverse le problematiche. Il primo è la cadenza organica che si ripercuote soprattutto nei turni pomeridiani e festivi, dove il personale è ridotto al minimo e quindi siamo costretti a lavorare in una condizione veramente sotto organico, sotto sicurezza. Il collega che lavora all'interno è costretto a gestire un piano intero con 200 detenuti. Questa non è una condizione lavorativa, non è una condizione di vivibilità. Signora, lei è la moglie di un agente di polizia penitenziaria. Come vive indirettamente questa situazione? Ovviamente si vive nella tensione perché comunque quando i mariti tornano dal lavoro sono nervosi, sono stanchi e anche sfiduciati.